Siamo usciti col giornale, abbiamo la copia nuova, la copia della settimana, io resto a casa, a casa con due cia, poi lo correggo Correggio ogni copia, ma che è uscito, ecco, oggi 22 marzo, segno dell'Ariete, l'Ariete è entrato ieri, il 21 marzo, ancora un segno nuovo, non ce ne hanno in tanti 22 marzo del 1349, questa è storia, ci fu la Pasqua più bassa della storia, si narra che uno dei tre magi, Baldassarre, al posto della Mirra portò l'uovo 22 marzo San Libio, San Libio che divenne santo perché restò a casa e non uscì e non contagio a nessuno Bravo, è vero perché hai ragione San Libio è pure protettore di quelli che si lavano bene le mani Sì E il proverbio del giorno, il proverbio del giorno è i nostri comportamenti influiscono sempre sulla vita degli altri Non è un proverbio ma è bellissimo Questa è una frase mia che tu mi hai copiato e il Papa l'ha fatto i complimenti a te Vabbè smettila, smettila, faccio finta di niente Invece il merito è mio Non mi imbarazzare, vai avanti, ecco, va bene Canale 5, Grande Fratello Vitto, Alfonso Signorino è preoccupato, c'è stato un calo di ascolto del 98% Ma non è vero Perché la gente non trova più molto interessante la vicenda di un gruppo di persone chiuse dentro una casa che non possono uscire Poi che c'è? Allora, Rai 1, Don Matteo 12 Beh complimenti, complimenti, un ascolto pazzesco Grandissimi ascolti Complimenti Nino, complimenti a te Abbiamo fatto ascolti altissimi, ascolti bassi l'abbiamo fatto Quelli bassi fatti a Bassano del Grappa Vabbè Matteo, Rai 1, 104% Ma non è possibile Su 100 telespettatori, 104% hanno visto Ma non sono venuti dal... Ma sono venuti dal... Ma dall'estero... Isole comprese Isole comprese Vado nei dettagli, eh Allora, uomini 96% Da non confondere con 66% Ma perché si deve confondere? Se è 96% non si può... Donne di sesso femminile, 97% Ricchi, ricchi 90% Ricchi e poveri 4 Perché ora è tornata a Marino Gente che non ha il televisore 12% Senza televisore hanno visto Don Matteo Attori di altra fiction 65% Sì Gente con la terza media Che poi si è ritirata da scuola E è andata a lavorare al nord Dove là abitavano i suoi due zii 86% È molto dettagliato Proprio preciso, dettagliato Il cantante Povia Inizia di vedere Don Matteo Per rovieri Ma 77% Che fai tutto nelle... Stranieri Stranieri Di cui nessun italiano E beh se sono stranieri 74% Adesso c'è un intervallo di 4 secondi Perché? Riprendiamo Ma perché? Toletta... C'è un intervallo Non perché era lunga la cosa Un intervallo Tolettatori 50% Gente col mal di schiena 91% Conoscenti 99% Amici, saluti, baci, ciao, grazie Arrivederci Appuntamento a Don Matteo 13 Che faremo L'anno prossimo Invece giovedì esce una fiction interessante Che si chiama Doc Nelle due mani Con Luca Argentero Questo Chi sta a casa a vedere La può vedere Molti VIP, caro Fabio In questo periodo Devono fare delle rinunce No? Ognuno di noi deve fare delle rinunce Giusto? Allora ecco Carla Fracci Sto a casa Mi mancano tanto le serate allo Smaila Ma non è possibile Ma non è possibile Floriana del Grande Fratello Sto a casa Sto a casa Vorrei leggere un libro Però non so come si fa Vai smetti la sua Tina Cipollari e Marco Travaglio Stiamo a casa Non è vero Stiamo scrivendo Stanno insieme Ma non è vero Stiamo scrivendo un libro insieme E la sera facciamo il gioco della pentolaccia Ma che pentolaccia In cucina Metto una pentolaccia Poi bendato col bastone Spacco la pentolaccia E vinco Tina martedì Dopo aver mangiato Così uno spuntino 16 panini col kebab Maionese Burro e strutto Più un pollo imbottito Di mortadella E aveva beccato due litrotti Ma dai Mi ha dato un colpo Di bastone Mi ha beccato Io l'ho perdonata Mi ha fatto un grosso taglio I punti Me li ha dati lei Con tanto amore E mi ha disegnato Un cuoricino Per finire Per finire Stando a casa Costanzo e Maria De Filippi Stiamo a casa Abbiamo i cani Abbiamo i gatti E che fa? Maria sta preparando una nuova trasmissione Si chiama Uomini e donne Uomini e donne Ci sono Da una parte gli uomini Da un'altra parte i predi Ah i donne L'uomini e donne Ok La sera dopo cena Marito e moglie Giocano Ah Indovina la frase Indovina la frase Che vuol dire? Indovina la frase Consiste praticamente Costanzo parla E Maria Deve indovina Ma smettila La prossima settimana Speriamo di uscire